Fidel Castro Díaz-Balart, figlio maggiore dell'ex presidente Fidel Castro, si è suicidato all'età di 68 anni. L'ha annunciato la stampa ufficiale cubana. Fidelito, come era conosciuto nell'isola caraibica, soffriva da tempo di una grave forma di depressione ed era stato inizialmente ricoverato per le sue condizioni, poi era stato seguito domiciliarmente. Nato il 1 settembre del 1949, era figlio del primo matrimonio del leader rivoluzionario con Mirta Díaz-Balart. Era uno scienziato educato nell'Unione Sovietica e aveva contribuito allo sviluppo del programma nucleare civile del paese. È stato vicepresidente dell'Accademia delle Scienze di Cuba e consigliere scientifico del governo.